benvenuti alla quarta lezione del ventisesimo corso di geopolitica di storia in questo momento mi trovo alla sipac ad orlando ma ci tenevo comunque a farvi a mandarvi un saluto ringrazio il relatore marco valentini il professor gialluca foresti e ovviamente l'amico caro guglielmo cevolin per questo invito oggi parlerete con il dottor valentini di sicurezza della repubblica e di democrazia costituzionale nel suo libro il dottor valentini affronta molto seriamente la questione di come far convivere e come approcciare la sicurezza individuale e collettiva tutelando lo stesso tempo i diritti umani e la nostra carta costituzionale noi legislatori soprattutto nell'epoca della pandemia e anche in alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni dobbiamo convivere quasi quotidianamente con queste sfide trovare cercare di trovare un giusto equilibrio cosa che non sempre è facile con il tempo questa sfida diventerà sempre più difficile perché le minacce alla sicurezza dei cittadini della repubblica sono in costante aumento e con un livello di pericolosità sempre maggiore ma sono convinta che il dottor valentini sarà in grado di trattare il tema nel migliore dei modi e spero che le vostre domande e vostri dubbi trovino una risposta vi auguro una buona giornata da orlando e un buon lavoro grazie